Sicuramente siamo riduci da tre punti importanti quindi siamo soddisfatti ma penso che quella preparazione lì sia anche una preparazione che avevamo fatto per le gare precedenti come abbiamo fatto per questa gara qui contro la Fiorentina perché per noi sono tutte partite che se non le prepariamo in questo modo qua per noi diventano veramente un qualcosa di impossibile da giocare. Speriamo di riuscire a smentire anche queste valutazioni qua, come ho detto prima la risposta è che questa squadra deve subito archiviare, dimenticare e cambiare subito pagina perché ogni settimana è diversa da quella precedente ogni settimana è ricca di difficoltà e di insidie quindi non ci possiamo permettere nessun calo di concentrazione e mi auguro che queste valutazioni personalmente le sto sentendo adesso mi diano e diano alla squadra quella carica in più per cercare di dare il massimo e cercare di mettere in difficoltà la Fiorentina. Con Zola, Piccoli e Ferrer sono alla prima settimana con il gruppo, hanno fatto tre allenamenti con il gruppo non spingendo al 100% e sono convinto che dalla prossima saranno a pieno regime. Mi aspetto una Fiorentina che chiaramente deve cercare di ottenere il massimo della posta in palio perché lo dice la classifica deve cercare chiaramente di forzare la partita, di cercare di attaccare, di vincere, di portare a casa questi tre punti quindi una Fiorentina da affrontare come dico sempre con la massima attenzione, con quella concentrazione che in questo momento stiamo avendo per cercare di non andare incontro a una serata spiacevole. Poi per quanto riguarda il mister lo saluterò molto molto volentieri, è stato il primo allenatore che mi ha dato piena fiducia. Io sono convinto che faremo una grande prestazione, siamo obbligati a fare una prestazione contro una squadra molto interessante una squadra che gioca un buon calcio, un ottimo calcio, forse in questo momento il migliore d'Italia ha vinto contro il grande Milan e quindi ci sono delle preoccupazioni ma sappiamo che ogni partita ha la propria storia complimenti a Italiano perché è riuscito veramente a dare una continuità di gioco importante però noi abbiamo la necessità e il dovere di fare la partita per i tre punti.